Arrasiket è un altro classico modello intramontabile della collezione Parajumpers, rinnovato ogni stagione da dettagli sofisticati e colori nuovi. Questo iconico piumino con cappuccio è realizzato il Rep Scrincol di poliestere nylon imbottito in piuma. Il nylon laminato Oxford sui gomiti, sul carré e sul cappuccio massimizza la resistenza all'acqua e l'usura del capo su questi punti. L'imbottitura in piuma d'ana tra 90 e 10 garantisce il calore perfetto per le attività invernali all'aria aperta o in città. I fori di aereazione sotto le braccia assicurano la traspirazione, permettendo al corpo di ridurre la temperatura quando necessario. La perfetta vestibilità è garantita dagli spacchi laterali zippati e dalla chiusura a doppio cursore compatto antivento, mentre i polsini regolabili ed elastico in vita assicurano il mantenimento del calore. Il cappuccio, regolabile tramite puliz, è bordato in vera pelliccia staccabile. Sul davanti c'è una capiente cargo, oltre a 4 tasche scaldamani compatta. Altre 3 tasche spaziose si trovano all'interno. La giacca è disponibile in una gamma di colori freddi che completano ogni guardaroba invernale.